Quattro cose che devi assolutamente fare prima del tuo allenamento se realmente vuoi allenarti bene. Iniziamo dalla prima cosa che è fondamentale, che è quella di mangiare. Calma, 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 perché se mi segui lo sai già, le energie che hai durante l'allenamento non dipendono solo ed esclusivamente da ciò che mangi prima del tuo allenamento. Però c'è da dire che è bruttissimo allenarsi con quel senso di fame, che alla fine non riesci ad allenarti tanto bene se pensi al cibo e dici mamma mia che fame, quindi è importante mangiare. Ora, le energie che avremo durante l'allenamento dipendono dai passi fatti 8-10 ore prima del tuo allenamento. Quindi già da qui ti fa capire com'è importante avere una dieta ben strutturata, avere dei passi ben strutturati che poi vanno a darci le energie per il nostro allenamento. Ma se per caso mangi prima di allenarti è fondamentale far passare almeno ma proprio indispensabile un'ora, ma proprio minimo, 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 l'ideale sarebbero far passare almeno due ore e mezza, tre ore, in modo tale da riuscire a svuotare lo stomaco del tutto e quindi riuscire ad impegnarti al 100% con i pesi. Vi è mai capitato di mangiare e sentirsi poi quel senso di sonno, stanchizza? E proprio ad allenarti e non riesci proprio a partire, a mettere la seconda, la terza, la quarta, la quinta, ti senti proprio rallentato? Ecco, probabilmente per questo avendo i processi digestivi attivi il nostro corpo non riesce poi a settarci sul meccanismo di allenamento. Quello funziona così, il nostro corpo il DNA ragiona su. Nel momento in cui noi mangiamo dobbiamo dare tempo e modo al corpo di digerire e noi non siamo settati in quella modalità di caccia, quello è, perché come funziona? Noi quando siamo a digiuno ci sentiamo molto più svegli, attivi, perché nel nostro DNA ha quell'impronta dove dice ok, lui non mangia da tanto, deve restare sveglio, altrimenti qualcosa, qualche animale, il dinosauro, anche se non esisteva, ci può uccidere e quindi noi siamo così, mentre nel momento in cui mangiamo ci viene sempre quella botta un po' glicemica, un po' il nostro corpo ci setta sulla digestione, concentrando il sangue soprattutto qui. Quando ci alleniamo il sangue va maggiormente sui muscoli e quindi il nostro corpo si trova come per dire ma dove devo mandare il sangue? Nel bicipite o devo digerire questo cibo qua? Che devo fare? Quindi ecco perché è importante distanziare il pasto dall'allenamento se realmente vuoi allenarti bene. E qui poi passiamo ad un altro punto che è fondamentale avere uno schema da rispettare, cioè tu come fai ad allenarti bene se ti alleni a caso, non hai uno schema, non hai una progressione? Questo diventa tutto abbastanza difficile ma poi soprattutto non riesci ad avere un'immagine di ciò che fai. Tanto possono capitare allenamenti che vai, ti scassi, scassi tutto, ti senti Chris Banstead, come poi ti possono capitare allenamenti che ti senti come a Barbie che si è andato lì a perdere tempo con i pesetti da 2 kg. Quindi è importante avere uno schema da rispettare, una progressione per riuscire a dare sempre di più. E passiamo al numero 3. Vi ho detto già tantissime volte, voi addirittura secondo me state pensando che io vengo pagato per dire io ho un'azienda che vende l'acqua forse. No, però è fondamentale bere. Molte persone non si allenano bene perché non bevono abbastanza. Un corpo, un muscolo ben idratato riesce ad esprimersi molto di più. Quindi non fatevelo ripetere ancora. È importante bere. Aspetta. E passiamo all'ultimo punto che è un punto molto importante che ora ne parliamo. È fondamentale essere riposati per riuscire ad allenarsi bene. Quindi magari se non hai avuto una buona notte di sonno oppure sei particolarmente stressato non riuscirai a performare al 100%. E tu ora mi dirai allora che devo fare? Vado o non vado in palestra? Calma. Io la vedo così. Io particolarmente ho 4 allenamenti da fare a settimana. Fortunatamente riesco ad essere flessibile. Cioè non devo per forza allenarmi il lunedì, il martedì, poi il giovedì e venerdì. Quindi io se per caso il martedì sono particolarmente scariche giù, anziché andare in palestra e allenarmi un po' na merda, preferisco slittare quell'allenamento in un giorno in cui so che sarò particolarmente più riposato e riuscirò a sfruttarla a pieno. Capisco il ragionamento no pain no gain. Devi andare in palestra sempre e comunque. Però se hai modo di slittare quell'allenamento in un giorno in cui sarai più riposato e riuscirai a dare il 100% ha più senso. Cioè voi dovete capire che se siete stanchi e non riuscite ad allenarvi bene ha più senso conservare quell'allenamento in un giorno che darei il 100%. La dieta si mantiene comunque perché spesso molte persone mi scrivono a coach ero proprio stanco oggi ma sono comunque andando in palestra e mi sono allenato. Ottimo mi fa piacere. Però cercate di non trascinare poi questa stanchezza in modo tale da peggiorare le tue prestazioni durante l'allenamento. Questa è una cosa importante. Quindi qui dovete essere un po' a voi a capire ok perché molte volte anch'io sono stanco. Poi vado in palestra mi scasso e mi alleno molto bene. Però capitano anche altre volte in cui dico è la media che mi stava a casa e non mi allenava almeno non avrei bruciato questo allenamento. Quindi qui dovete essere un po' voi a filtrare il tutto e a dire ok oggi preferisco slittare vado domani e mi scasso il doppio oppure ok oggi non mollo vado comunque mi alleno tanto può uscire un buon allenamento come non e poi da lì imparerete a gestirvi il tutto. Spero vi sia piaciuto questo video. Un abbraccio anaborico e ci vediamo al prossimo video.